E adesso un altro articolo su Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, sinceramente è un articolo a tinte chiare e scure, infatti c'è un lato bello in questo articolo, ma anche un lato che certamente farà storcere il naso a molte di voi. Ricorderete sicuramente che Cristian Gallella disse durante il trono di Paola Frizzi e Rockge aveva dei problemi con i genitori e non si parlava più con loro, sinceramente pensavamo e speravamo per lui che dopo tanti anni la cosa si fosse risolta, ed invece nulla di tutto questo. Saprete sicuramente che il prossimo anno Cristian Gallella e Tara Gabrieletto convoleranno a giuste nozze come hanno annunciato su Facebook e a Temptation Island, ma a quanto pare alla cerimonia Cristian non chiamerà i suoi genitori a causa dei pregressi scontri, dice che è molto difficile che torni sui suoi passi e che non vuole correre il pericolo di riapire vecchie ferite, inoltre aggiunge che ha un ottimo rapporto con i genitori di Tara. Dice Cristian Gallella. In passato abbiamo avuto dei contrasti molto profondi che non abbiamo mai superato, quando prendo una decisione difficilmente torno sui miei passi. Non voglio correre il rischio di rovinare tutto riaprendo vecchie ferite. Però ci saranno sicuramente i genitori di Tara, con cui ho un rapporto meraviglioso. Mentre a quanto pare sul luogo dove tenere le nozze con la sua Tara Gabrieletto, l'extronista è decisamente molto sicuro e infatti dice. È legata al giorno in cui è cominciata la mia storia con Tara il 9 febbraio di due anni fa quando l'ho scelta a uomini e donne. Abbiamo invertito quella data, scambiando il mese e il giorno. Ci sposeremo in spiaggia con un rito civile. Stiamo visitando diversi posti, intanto abbiamo già scelto le fedi e il fotografo. Vogliamo solo le persone a cui teniamo davvero e tra queste c'è ovviamente Maria De Filippi. Grazie a tutti.